clara salvini l'ultima a mollare per per moncalieri nonostante anche un colpo ad un certo punto che ci ha fatto tutti preoccupare chiaramente ti chiediamo una impressione su questo match che partiva già con delle aspettative alte perché giocare contro la prima della classe non è mai facile una squadra che è in bolla che ha veramente tantissime giocatrici in grado di far male e che quando si accende è difficile da far male ti chiedo un piccolo commento clara in merito al match e in merito al momento che sta vivendo moncalieri sì come dici giustamente tu stefano è stata una partita sin dall'inizio con un approccio molto aggressivo giocando contro una squadra altamente tecnica e anche fisica però da anche date le difficoltà come squadra siamo riuscite comunque a trarre anche profitto da certi momenti a leggere delle situazioni quindi questo evidenza il fatto che la squadra sta crescendo sebbene comunque a ranghi ridotti però vorrei fare anche un grande applauso un complimento anche da tutta la squadra da ogni compagna perché anche della panchina ogni giocatrice entrata ha dato il massimo dalla senior alla alla più piccola quindi di questo sono molto contenta perché quello che vogliamo comunque mostrare è che chiunque gioca contro di noi deve giocarsi che poi la partita possa anche andare non bene però noi ci siamo siamo lì stiamo lavorando tanto su questo al di là di questa sconfitta sono certa che i risultati arriveranno io ti ringrazio ringrazio clara e il mio calvo per la prossima grazie viva il lupo